Festa di Sant'Anna 2015 a Matinella. Quest'anno, Don Carlo, mi sembra che abbiamo già concretizzato un programma religioso molto forte. Abbiamo quattro messe in quattro posti della comunità di Matinella, la frazione d'Albanella, e quattro preghiere prima della messa stessa. Ma evidentemente questo è un modo proprio per entrare nella comunità, creare ovunque noi andremo con queste messe e con queste preghiere, micro comunità che partino dal ricominciare a credere, perché probabilmente la speranza è quella che in questi anni purtroppo un po' si è allontanata dai nostri cuori. Partiamo con un progetto religioso che stiamo proponendo in questi giorni a tutta la comunità albanellese, proprio per far comprendere quanto sia importante partire proprio da questo, dal credere. Dietro al volantino che stiamo distribuendo in questi giorni abbiamo voluto scrivere un messaggio importante, un messaggio sulla responsabilità e un messaggio di padre Francesco. Speriamo che tutti coloro che vorranno raccogliere questo volantino vogliono perdere o magari vogliono investire un minuto del proprio tempo per poter fare una riflessione, che è esattamente quello che noi cerchiamo, quello che tutto il comitato, perlomeno in questo momento è in parte qui riunito, vuole dare a tutta la comunità. Don Carlo, quindi mi sembra un momento fondamentale perché fra l'altro la festa di Sant'Anna per la nostra comunità è la principale festività. Sì, quest'anno questa impostazione di maggiore presenza nella comunità, con momenti di quartiere che rappresentano, come anche dice il Papa, ad andare dal centro verso le periferie, ma nelle periferie, nel senso non delle grandi città, le nostre e i piccoli paesi, che sono fatti di piccoli periferie, di piccoli agglomerati di case, di quartieri, piccoli quartieri, di gruppi di case, di gruppi di famiglie, è proprio l'invito a riprendere una vita sia civile che religiosa, ma soprattutto religiosa, non centralizzata solamente con le funzioni religiose, ma soprattutto ritrovare la gioia di ritrovarsi insieme a piccoli e grandi gruppi. Naturalmente, signori, voi lo sapete, quindi il comitato sa benissimo che la gente ci chiede poi, ma vabbè, questo è il momento religioso ed è già tanto ed è rivoluzionario spingere in questa direzione, ma poi ci chiedono, ma a cupurtate, a cupigliate, no? A chi prendete come... Beh, voglio dire, in questo momento confermiamo ufficialmente che abbiamo la banda, la banda musicale che sarà composta da 30 elementi e la banda di Aquara. Nella giornata della festività di Sant'Anna, il 26, avremo questa banda che girerà per le strade di tutta la nostra comunità. Noi ufficializziamo questo perché in questo momento abbiamo anche la condizione economica. Don Carlo, noi siamo convinti di questo. La comunità avrà la festa che vorrà, che vorrà realizzare e concretizzare. Noi ce la metteremo tutta. Don Carlo, voi sapete che abbiamo fatto coppia l'anno scorso con Natalino, Natalino col quale l'anno scorso abbiamo condiviso bellissimi momenti. Quest'anno noi ci riproponiamo, diamo la nostra disponibilità, vero Natalino? Certo, sì, facciamo nel nostro meglio. E lo facciamo proprio per la gente. Non saremo pagati, naturalmente, perché amiamo farlo per la nostra gente. Questo è giusto ed è importante anche dirlo. Bene, come possiamo concludere, Don Carlo? Che invito possiamo fare ai nostri amici che ci stanno ascoltando? L'invito è quello di riscoprire la gioia dello stare assieme. La festa è questo. Non è innanzitutto un'iniziativa di spettacolo, come siamo abituati ormai alla televisione o nelle grandi eventi. Ma la festa, bisogna riscoprire la dimensione della festa, non come spettatori, ma come partecipatori. Quindi che la festa ritorni ad essere la nostra festa, la festa di tutti i giorni, la festa dello stare assieme, la festa della gioia di incontrarsi, di incontrarsi e di vivere questo con gioia e con amicizia. E noi ne possiamo che concludere con un applauso. Grazie. 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 Grazie.